Oltre 2.000 film provenienti da più di 100 nazioni del mondo partecipano alla 36esima edizione del Fanu International Film Festival, inaugurata martedì 22 ottobre al Cinema Masetti. Tra le novità di quest'anno la mostra dal titolo Grafica per il Cinema, 20 manifesti per 20 edizioni del Fanu International Film Festival, realizzati da Andrea Zaccone e Luca Guerra. I due grafici sono stati premiati dal direttore artistico Fiorangelo Pucci durante la serata inaugurale. Le proiezioni della serata dedicata al cinema d'animazione italiano e internazionale sono state aperte dall'originale sigla realizzata dal regista fanese Giorgio Valentini, ex direttore artistico dello studio Bozzetto di Milano e vincitore per ben due volte del Fanu Film Festival. Tutti i manifesti dello studio grafico Zaccone e Guerra sono in esposizione qui al Cinema Masetti e quindi è un omaggio dovuto a chi con pazienza, creatività soprattutto, si è dato da fare per creare anche prestigio al nostro festival di Fanu. Sono arrivate più di 2.000 opere da oltre 100 nazioni praticamente in totale, chiaramente insomma, i marchigiani anche quest'anno sono andati da fare, una regista che non conoscevamo come tale ovviamente, perché è una ballerina, ecco ha vinto il premio come miglior film di autore marchigiano, Erika Rombaldoni. Stiamo ancora scandagliando, ma scandagliando bene praticamente il sommerso del cinema italiano, ma anche del cinema locale. Tutti gli autori sono al corrente di chi ha vinto e chi non ha vinto e quindi verranno sabato quando c'è praticamente la serata di gala, insomma, ormai è pomeriggio perché è tardo pomeriggio, insomma, no? Proiezioni e premiazioni. La scuola è uno dei pochi festival che ancora lavora con le scuole, sono 200 le scuole che ha partecipato e quindi sono state previate una scuola di Milano, una scuola di Pesaro e una scuola di Bologna. L'Extra Time, cinema sorpresa alle 6 del mattino, supernotazione, c'è da pagare una piccolissima quota perché offriamo anche la colazione, alle 6 del mattino serve un cappuccino con brioche ovviamente, però è l'Extra Time con film a sorpresa, si è a sorpresa chiaramente, non devo sapere nemmeno io che film sarà, ma è sempre comunque un film importante con la presenza spesso in diretta dell'autore online, chiaramente, insomma, che anche lui alle 6 si sveglia e ci fa un saluto in diretta da casa sua, insomma, spesso. Qui esposti sono 20 manifesti, ne abbiamo creati 20, in 20 anni di collaborazione con Fan of Film Festival, sono tutti manifesti che ogni anno abbiamo pensato a qualcosa di diverso, i primi se si vede sono ancora a Cervi, che ancora conoscevamo poco, il mondo del cinema corto, poi piano piano ci siamo un po' strutturati anche in questo senso e questi sono gli ultimi che vedete, sono quelli che poi dopo ci rappresentano anche di più perché è il percorso che stiamo portando avanti adesso. Tutti hanno qualcosa di diverso e hanno qualcosa di significativo perché dipende anche un po' il tema del festival, eccetera. Io se devo scegliere, scelgo questo qua giallo, che è quello che un po' mi rappresenta tanto, giallo e nero, questo quella mosca, ma anche gli altri, diciamo, sono tutti manifesti che hanno un loro significato per noi anche di percorso professionale.